Melita Toniolo incinta e stanca, lo sfogo prima del parto Quando partorisce Melita Toniolo? A rispondere a questa domanda su Instagram è proprio lei in persona. Stanca delle continue insistenze degli utenti su social, Melita Toniolo ha deciso di rispondere una volta per tutte, con un post Instagram, alla domanda che più le viene fatta negli ultimi tempi. L'ex concorrente del Grande Fratello è stanca di ricevere, praticamente tutti i giorni, messaggi e domande riguardanti il suo stato di gravidanza. La cosa l'avrebbe talmente stancata che, come spiega lei stessa sul suo profilo, a volte si vede costretta a disattivare i commenti sotto le foto pubblicate. Per Melita è un momento molto delicato e queste continue pressioni sicuramente non l'aiutano a stare meglio. . Melita Toniolo, basta chiedermi quanto manca?. . Essere considerata un personaggio pubblico, spiega la Toniolo, non giustifica la mancanza di tacco e l'invadenza di alcune persone. . Mi prenderete per maleducata scrive ma non posso rispondere a tutti i messaggi che mi scrivete. . Non può e non vuole passare la sua vita attaccata ai social, qui condivido quello che mi va aggiunge infatti poi la stessa. . Ciò che fino ad ora la spinta a condividere i momenti più belli, e anche quelli più difficili, della sua gravidanza è stata l'idea di poter essere d'aiuto ad altre donne che si trovano nella stessa situazione. . . I giudizi buttati a caso, tuttavia, continuano a non interessarle. . 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 Adesso batte per due e questo, adesso, è quello che più conta.